Siamo con Simone Bonalumi, autore del gol del pareggio ed una bellissima partita con tre attaccanti veramente tosti. Penso che l'Alessandria sono una squadra tosta e ovviamente ha molte esperienze in categoria, però penso che il valore aggiunge sia gli attaccanti perché comunque gente come Gonzales, Pusano, Iovolano, Maras, eccetera, sono veramente a valore aggiunti in questa squadra e penso che anche noi oggi abbiamo fatto una buona partita per Conte. Per Conte Nero, è stata una bella partita. Raccontaci un po' del gol, sei stato bravo a tornare indietro, a uscire dal fuorigioco nel momento opportuno. Eh sì, perché mentre stavo risalendo proprio di fianco a me c'era il loro terzino destri, Sedia, che aveva scivolato, era caduto per terra, e loro ho detto tanto è per terra, sono in gioco. E poi è successo, l'ho stoppato, ho fatto il gol, è andata bene, insomma, l'ho vissuto un bel via. Sono contento. Hai detto prima che il gol lo dedichi al nonno. Sì, al mio nonno, perché proprio ieri sono andato all'ospedale e si è appena operato, mi sta tanto bene, e allora mi fa, dai, fai un gol che almeno ti da un po' di porta, ma non so bene. E oggi infatti quando ho fatto col primo pensiero, oltre che alla squadra, a tutti i miei famici del centro, ho andato a lui proprio per questo episodio. E' stato abbastanza toccante, dai. Va bene. Grazie Simone. Grazie a voi. Grazie.